benvenuti ad un nuovo appuntamento delle interviste di yes life oggi abbiamo con noi un attore italiano ma conosciuto a livello internazionale lo vedete già in camera lui vincenzo bocciarelli grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto su yes life carissimi amici grazie a voi grazie dell'invito qui dall'hotel arcobaleno in siena dove mi trovo in questo momento un momento nel quale i colori la speranza è veramente necessaria sono felice ecco di dare di portarvi il mio saluto sulle ali dell'arte assolutamente l'hai detto bene l'arcobaleno insomma è qualcosa che in questo momento di cui abbiamo bisogno abbiamo bisogno dei dei colori un po di spensieratezza per cercare di respiro respirare aria pulita l'aria non è solo l'ossigeno che respiriamo tutti gli istanti tutti i momenti di cui mai come in questo momento ne sentiamo proprio il senso più bello e privilegiato del poter respirare del potersi riossigenare ma esiste anche un respiro dell'anima che va di pari passo con quello diciamo quello corporeo quello fisico con quello cioè quello molecolare con quello spirituale che va in osmosi di pari passo qual è il messaggio che tu vorresti mandare insomma a tutti i nostri ascoltatori so che insomma ci tiene a mandare un messaggio di positività di colore ecco per restare in tema dell'arcobaleno sai ogni mattina come poi racconto anche nel libro anche una sorta di diario di diario di cronaca sulle ali dell'arte che ho realizzato durante il primo lockdown nel quale eravamo tutti impreparati eravamo attoniti eravamo ci sentivamo proprio in una dimensione ancor più surreale incapaci impotenti non che ora tutto questo sia passato però sai l'essere umano si piega ma non si spezza nel senso che si abitua si adatta l'essere umano ha grandi capacità di adattarsi poi insomma nella storia abbiamo avuto momenti nei quali ci siamo trovati in pandemie in epidemie basti ricordare la peste la spagnola e tanto altro riuscire penso che l'aneddoto la forza rivitalizzante rivitiscante fondamentale in questo momento sia quella di cercare di non persi perdersi d'animo allora c'è chi si appoggia ancor più alla fede c'è chi trova nell'amore nel rapporto anche con gli altri con la propria compagna proprio marito il proprio fidanzato la propria i propri figli la forza di riuscire ad andare avanti perché un momento nel quale siamo davvero messi a dura prova nonché in passato per l'essere umano per tutti noi le sfide della vita sono sempre state presenti però ecco questo ultimo anno perché ormai ci stiamo avvicinando all'anno di ricordato come l'anno del covid l'anno della grande trasformazione del grande dolore siamo stati messi a dura prova e abbiamo imparato anche tante cose penso anche se ancora molti non hanno realizzato no poi ognuno reagisce in maniera diversa il mondo è bello perché vario tornando ai colori dell'arcobaleno prima prima lo dicevi l'hai nominato io vorrei che magari lo facessi anche vedere in questo lockdown è stato diciamo per te da una parte molto proficuo perché poi da lì è che è uscito il tuo primo libro che sulle ali dell'arte e se ce lo vuoi eccolo qua far vedere bucciarelli allora questa è una foto realizzata pensa a fiumicino c'è da elia giacchino un giovane fotografo molto bravo che pesa anche lui come tanti personaggi che ho avuto modo di conoscere nell'arco di questo lockdown del primo lockdown e li ho conosciuti virtualmente come l'editore giuseppe di nicola editore presidente di script magazine di accademia edizione eventi pier paolo poggi che produttore con quale ho fatto il vincent set com home e tanti patrizia faiello l'ufficio stampa che ci siamo ce l'avevamo già conosciuti però siamo entrati in contatto durante cioè guarda c'è stato un palesarsi di di personalità di anime di persone proprio durante il primo lockdown che si sono rivelate davvero preziose davvero davvero uniche questo per dirti che l'occasione del lockdown è stato anche quello di oltre che a mettersi in discussione anche di elaborare fare creare anche quello proprio di conoscere nuovi nuovi amici con i quali poi creare delle prospettive future e lì a giacchino il fotografo ecco questa è una foto scattata proprio subito dopo il lockdown al porto il faro abbandonato di fiumicino che è molto suggestivo molto cinematografico e qui ecco sbucavo da questa parete ed è arrivava questo vento eolo dal mare no che mi ha investito di freschezza di rinascita e che la foto parla molto dice molto che insomma vuole essere davvero un messaggio di volto alla rinascita alla rigenerazione aria pura come racconto nel libro spesso cosa come come è nato questo questo progetto e soprattutto senza svelarci troppo insomma che cosa di che cosa ci parli nel nel libro il libro sono 12 capitoli 12 capitoli nei quali racconto passo step by step passo dopo passo partendo un po diciamo l'impostazione molto cinematografica perché insomma io essendo cresciuto col teatro cinema televisione il racconto la dinamica narrativa un po quella inizio dalla fine a quella notte prima di partire verso i miei genitori per rincontrarli dopo 65 giorni passati chiusi in casa a roma da solo e vado a ripercorrere il tempo presente il risveglio cioè mi sveglio da quell'ultimo giorno ma mi risveglio nel primo la prima mattina di lockdown il 10 marzo nel quale poi a un certo punto ho questa sorta di raptus creativo e decido di costituire di organizzare di creare il boccirelli home theater che è un appuntamento teatrale poi poetico di intrattenimento poi diventerà boccirelli art home theater con la creazione di opere d'arte in diretta in cui ricavato sarà devoluto all'associazione salva mamme insomma c'è una storia che poi si addice molto anche di una storia cinematografica infatti stiamo pensando di fare una trasposizione cinematografica di questo viaggio sicuramente l'attore protagonista non sarò io perché vorrò che chi sia un altro attore interpretare me stesso però questo questo è una bella una bella anticipazione che ci hai già dato è una notizia di questi giorni perché stai è tutto costellato come gran parte della mia vita i miei incontri professionali sentimentali amicali spirituali da tutta proprio una sorta di sistema solare di orbita di costellazione di incontri come poi è accaduto durante il periodo del lockdown anche in questi ultimi mesi avuto modo di conoscere persone davvero straordinarie vorrei non dimenticarmene dimenticarmene qualcuna perché ogni tanto ecco pensavo servirebbe e a certo punto si palesava una persona la persona giusta la persona giusta al momento giusto giusto io metto l'occhiale intanto che così ti vedo anche meglio va bene e prima lo hai nominato io vorrei parlare anche un po di quello della bocciarelli home theater come è nato come ti è nata questa idea è fatto una sorta di un po di impulsione dell'arte nelle case degli italiani in un momento in cui non era possibile godere del piacere del dell'arte in cui eravamo tutti in casa tu hai cercato di ovviare a quello che in un primo momento sembrava non sembrava non possibile ho agito come ho sempre agito nella mia vita col cuore con l'istinto io sono un po qualcuno mi ha definito un po una bestia un animale da palcoscenico sono sono sempre stato ecco in questo racchiudo l'energia della città nella quale sono cresciuto che siena che sai per antonomasia conosciuta per la forza del cavallo e l'istinto anche un po centaurino no guarda io ho agito senza pensare ho detto visto che devo rimanere chiusi in casa per tutto questo tempo poi all'epoca non sapevamo nemmeno non si sapeva ancora quanto tempo che cosa sarebbe successo lì in domani se saremmo morti tutti perché ancora non si capiva niente tutto questo raccontato nel libro anche questa incapacità di questa insicurezza questa ignoranza rispetto a ciò che stavamo vivendo perché nessuno ci capiva niente tutti lanciavano delle delle ipotesi ma sai cosa che poi tendiamo a dimenticare facilmente invece questo libro serve proprio a attuare nella mente a immortalare proprio per non dimenticare mai questo secondo lockdown non ho la stessa carica che avevo nel primo lockdown cioè ho dato fondo a tanta energia anche perché è stato molto faticoso il bocciarelle home theater e poi la creazione del libro poi quest'estate faticoso è stata anche la presentazione il muoversi in cercare di riprendere le attività lavorative tutto contingentato tutto faticoso già il nostro lavoro che implica un impegno energetico un impegno creativo artistico per nulla togliere a chi diciamo timbra un documento però ogni lavoro alla sua fatica il suo impegno ma il nostro benché se ne dica a volte taluni non riescono a individuare bene il nostro tipo di difficoltà ma creare è possibile creare bene con onestà con sincerità con autenticità è molto impegnativo e appunto coinvolge una profonda un profondo impegno di forza di energie e quindi ecco questa adesso in questo periodo ripensando alla forza che avevo all'inizio del famoso bocciarelli home theater ritrovo quello sprint e che mi sta portando anche a pensare di presto regalare a tutti gli amici a tutti i bocciarelliani e le bocciarelliane un nuovo appuntamento legato anche all'aiuto del sociale perché tu sai che la realizzazione delle opere d'arte che poi metteva all'asta durante la creazione andavano a favore dell'associazione salva mamme e quando ci si avvicina a natale in prossimità delle feste le feste che ci vedono uniti nella condivisione dopo è necessario porre la propria attenzione proprio pensiero la propria anima proprio cuore verso chi ha bisogno anche se siamo tutti in momento di grande necessità perché il lavoro è diventato difficile per tutti per la maggior parte soprattutto noi dello spettacolo però come ci insegnano la figura di grandi eroi madre teresa di calcutta san francesco e a volte togliersi anche qualcosa un pezzo di pane dalla propria bocca un vestito un qualcosa tanto voglio dire alla fine cosa serve accumulare o comunque cosa serve cioè si può cercare si può riuscire a vivere lo stesso bene eh rinunciando noi a qualcosa no a qualcosa magari di piccolo per noi sì che però per un altro è sicuramente magari un grande qualcosa che tanto di piccolo non è nel senso che alla fine sai come veniamo da anni eh cioè quanto anche sovra sovra alimentazione quante cose vengono buttate eh poi sai mangiare meno fa anche fa anche bene esatto esatto io a parte un po' di golosità e facciamo magari certo i bambini che anche un dolcetto una cosa per loro è un grandissimo è un grandissimo regalo e su questo tu l'hai 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 nominato l'hai citato eh hai citato dei grandi e proprio sui grandi io ti vorrei vorrei citare il riconoscimento che ti è stato dato quello di Giovanni Paolo II e mi è piaciuto soprattutto la motivazione e quindi eh sia per il tuo approcciarti eh tra la fede il tuo lavoro ma soprattutto nei confronti dei giovani e spesso i giovani sono criticati ehm invece secondo te eh quanto è importante investire oggi sui giovani perché giovani saranno il futuro del domani sono la finestra del domani dice Papa Francesco letto recentemente la finestra del domani è importante la faccio che poi riconduce alla l'invito che fece San Giovanni Paolo II tanti anni fa che era quello spalancate le porte del vostro cuore spalancate le porte a Cristo cioè fate entrare questa questa conoscenza questa esperienza questa eh questa luce e quindi sì eh giovani a volte non lo so mi fermo a parlare anche con ragazzi con ragazze più giovani che poi giovani io mi sento anch'io sempre un po' ragazzino però sì eh noto che hanno particolarmente bisogno di supporto e di eh sicurezza di soddisfazione anche dare costa poco ogni tanto no dare un po' di soddisfazione al prossimo dire complimenti bella questa cosa che hai realizzato o questo dolce fatto in maniera sublime eh dobbiamo essere più generosi anche di complimenti guarda che a volte basta una parola detta bene al momento giusto che si trasforma la giornata di una persona sì anche di un so una piccolezza una piccolezza sì sì un barista buono questo caffè buono questa questa cioè siamo dobbiamo dobbiamo lasciarsi un po' lasciarci un pochino andare essere generosi anche questa cioè un complimento non costa niente un sorriso se noti no a volte partire dalle piccole cose della quotidianità fare un complimento anche a un a un giovane i giovani hanno bisogno di essere incoraggiati di sentire quella sana soddisfazione io almeno quando ero giovane mi faceva piacere sentirmi dire bravo questa cosa l'hai fatta bene o poi serve anche il momento della critica del mettersi in discussione no però ecco un un sorriso un un supporto un incoraggiamento ecco l'incoraggiare fondamentale dare forza perché i giovani anche se a volte sembrano molto sicuri se no adesso poi con i social sai muscoli le cose le foto i rossetti tutta in realtà nascondono una profonda fragilità perché purtroppo vengono da un salto generazionale nel quale l'ormai grado sono dovuti crescere velocemente e spesso trascurando le basi della crescita come ci insegnano i nostri nonni non le basi del che vengono da una lenta lievitazione se vogliamo citare quella della del pane sbocciare sbocciare o essere sfornati rapidamente anche arrivare a conoscenze di sé del proprio corpo in maniera rapida senza il giusto apporto e cognitivo di quanto sia importante anche la propria sessualità arrivarci lentamente perché è una cosa preziosa che va che va di pari passi anche scoperta con uno sviluppo una coscienza graduale della 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 propria consapevolezza quindi beh sui giovani ti vorrei fare un'altra domanda secondo te di che cosa hanno bisogno oggi giovani per 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 i giovani che scelgono di avvicinarsi al mondo dello spettacolo che un po insomma è quello che il tuo campo quali sono secondo te gli strumenti che oggi servono allora innanzitutto aver chiaro che cosa si vuole fare ma ancora prima capire anche grazie al supporto di guide maestri bisogna trovarsi dei maestri delle guide come dicono americani delle guide del master cioè fare un individuare un maestro una maestra io ti parlo per ciò che concerne il mondo del cinema del teatro e capire se c'è la famosa attitude cioè se si è portati a fare perché spesso ho notato ci sono dei giovani che scegliono questo 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 mestiere quasi come rivalsa sfidando e andando contro anche se stessi anche gli altri ma nella maniera cioè io all'epoca quando decisi di fare di seguire il mio sogno avevo già capito che c'ero portato e anche che già da ragazzino ho inaugurato il palcoscenico da ragazzino con personaggi anche impegnativi anche con testi inversi insomma però mi sono sempre messo posto del degli step per esempio mi disse a me stesso se non vengo scelto selezionato dalle tre difficili e impegnative selezioni al piccolo teatro di milano che ci ha portato poi appunto la selezione finale su 5000 siamo entrati 16 18 16 allievi vuol dire che questo non è il lavoro per me continuerò a vivere a siena ea magari aprirò una bottega di pittura e farò il pittore e invece poi bisogna darsi delle come dire delle asticelle no come un po nell'atletica leggera delle asticelle e cercare di capire poi cosa cosa è giusto e cosa non è giusto e chiedere consiglio avere l'umiltà vera non è solo quella a volte definita in maniera buonista no di fare no perché poi uno deve essere anche forte tenace guerriero ma la vera umiltà è quella di ascoltare chiedere consiglio e di mettersi in discussioni già allora sono senza andare in crisi è perché poi vedi giovane oggigiorno passa da un eccesso all'altro o c'è la sovra eccitazione data da i followers di instagram che spesso sono anche acquistati sono farlocchi a momenti di grande abbattimento invece deve essere una giusta centratura mettersi in discussione cercare di capire è il lavoro giusto per me a cosa cosa cos'è la mia vocazione dopodiché se ci sono i presupposti si persevera si va dritti come un treno provando tutte le strade anche se in italia poi sappiamo che ci sono dei sistemi un po difficoltosi perché rispetto ad altri paesi noi come possiamo definire aiutami come il nostro paese in poche parole è difficile chi ce la fa sfondare in questo paese senza raccomandazioni con la propria arte diventando necessari per il pubblico per lo star system io penso che potrebbe conquistare tutto il mondo perché paradossalmente in america per chi vale per chi ha talento è meno difficile abbiamo il problema della lingua noi abbiamo il problema dei permessi per lavorare all'estero in italia per esempio chiunque viene può c'è può diventare può entrare a far parte di produzioni no ma all'estero deve avere permessi di soggiorno deve avere la green card deve avere un sacco di sono molto tutelati cioè sindacati all'estero anche in india per esempio ma in gran parte del mondo tutelano il sistema produttivo attorale e per esempio noi non abbiamo abbiamo insomma chiunque può venire e può fra di volete rubare rubare lavoro a l'italiano sì esatto ma e tu queste cose noi siamo esterofili lo siamo sempre stato esatto esatto però tu lo sai bene quello che accade dall'estero lo dicevamo prima è lavorato molto anche fuori dall'italia però io vorrei citare un ultimissimo lavoro che è quello di mission possible in america è già un grande successo in italia quanto mi sono divertito lo vedremo raccontaci anticipa allora guarda ti dico solo che c'è un cast meraviglioso è un fantasy l'è stato presentato al terra di siena film festival un mese poco più fa con enrico pinocci che è venuto con giuliana che oltre ad essere la line producer della movie on produzione distribuzione c'era rebecca pinocci la figlia che anche una dei giovani interpreti del film ed è stato bellissimo per me consegnare al terra di siena film festival qui proprio a siena al teatro di rinnovati il premio come miglior produttore distributore a enrico pinocci made in italy che si è fatto strada nel mondo e mi ha scelto come unico attore italiano in un cast internazionale come diciamo ruolo da coprotagonista con john savage chris coppola james duval blanca blanco e come ti dicevo un fantasy interpreta un doppio ruolo di stinky e anthony ed è una storia che ricorda un po le storie alla walt disney abbiamo girato parte del film nelle marche in questo castello fantastico il castello dell'arancia ed è stata per me una tappa importante della mia carriera adesso abbiamo un altro film che dobbiamo terminare che è the job of christmas the job of christmas il cane di natale e causa kovid io ho due film un film appunto con la movione un altro con una produzione indiana che devo portare a termine quindi noi ingroggiamo le dita speriamo insomma che lo possiate finire subito prima c'è dato qualche anticipazione insomma qualche altra chicca cosa cosa ti aspetta per i prossimi mesi se ci puoi raccontare qualcos'altro allora il teatro ableto ovviamente rinviato al prossimo anno dove sarò re claudio come già spesso accennato in diverse interviste shakespeare shakespeare e tanto shakespeare poi c'è una novità di cui però non posso assolutamente parlare perché da contratto mi è stato chiesto ancora di non anticipare nulla e poi tante promozioni di sulle ali dell'arte presentazioni per il momento che faremo online e poi sai cos'è sfrutto questo momento anche per stare molto vicino agli effetti e sono la cosa più importante e più arricchente soprattutto per noi artisti perché senza anima non si crea assolutamente questo sono io assolutamente allora noi nel libro e nel libro esce fuori questa cosa insomma nel senso hai raccontato tra le altre cose permettimi di ricordare che ci sono dodici oltre ai dodici capitoli ci sono le lettere gli scritti dei bocciaregliani delle bocciaregliane che hanno partecipato sono state selezionate hanno inviato alla casa editrice i loro scritti e sono stati selezionati una ventina e quindi è stato un modo anche per festeggiare celebrare l'incontro assolutamente virtuale tra i successi bocciarelli è sempre bello è sempre bello impegni ne hai veramente tanti noi ti facciamo un grande bocca al lupo hai visto il baffetto da sparviero fa intuire bocciarelli allora noi sicuramente ti aspettiamo prossimamente quando ci potrai dire qualche altra cosa se vorrai secondo capitolo secondo capitolo va bene va bene ok non anticipiamo nulla io ti ringrazio è stato veramente un piacere ti faccio un grande in bocca al lupo per per tutto e speriamo di poterci sentire presto io vi lascio con il profumo di queste orchide bianche qui dall'hotel arcobaleno in siena che ringrazio perché mi hanno guardato messo a disposizione questa sala stupenda sono veramente molto gentili se capitate a siena venite anche perché ci sono dei dolci qua alta pasticceria quando ne so qualcosa sarà passato torneremo tutti a viaggiare a me per esempio mi manca new york tantissimo non vedo l'ora di ritornare nella big apple dove sai l'anno scorso ho presentato il tributo a maria callas alla columbus university il 25 novembre per celebrare anche la giornata a sostegno delle donne contro la violenza sulle donne bene bene grazie grazie vincenzo e un abbraccio a tutte le donne a proposito grazie a tutte le bocciaregliane e anche a te grazie è stato un piacere ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti